Buongiorno Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese e non solo l'Udinese che viene dalla bella vittoria ottenuta contro il Pescara e adesso chiaramente vuole continuare a macinare punti, a macinare gioco e a macinare soprattutto vittorie. Lo analizza anche il messaggero Veneto nella sua pagina dedicata allo sport Mirino su quota 50, altre 5 gare al piano di sotto. Dopo Pescara negli ultimi 10 turni ci saranno Palermo, Genoa, Cagliari, Bologna e Crotone, tutte squadre che potenzialmente l'Udinese può battere perché come dice appunto il messaggero si trovano in una posizione di classifica inferiore alla nostra e quindi per l'Udinese c'è la possibilità di ottenere dei punti importanti per migliorare la propria classifica. Del Neri ci crede, scrive Pietro Leotto, la società lo chiede, i tifosi lo sperano, il finale in crescendo di campionato per l'Udinese è un po' come il Somaliland, il paese che c'è sulle carte geografiche ma non esiste formalmente. I bianconeri devono infatti costruirlo tappa dopo tappa e quella di Pescara in questa luce non può che essere considerato un semplice primo passo per uscire da una crisi di risultati piuttosto lunga visto che la squadra dei Del Neri prima della scorsa domenica non vinceva da 43 giorni e che nel frattempo aveva raccolto appena due pareggi con Chievo e Juventus. C'è appunto la possibilità di ottenere dei punti importanti, questo il menu bianconero come lo chiama il messaggero con le squadre che vengono valutate in base alle stelline, una è per la zona retrocessione, 5 è per la zona Champions League l'Udinese affronterà subito il Palermo domenica alle 18, Palermo che ovviamente è invischiato nella lotta per non retrocedere è terzultimo, spera ancora perché l'Empoli sembra avere intenzione di perderle tutte, Empoli che ha 22 punti però è chiaro che il Palermo deve iniziare anche lei a ottenere un po' di punti. Palermo che dunque viene valutato con una stellina, poi c'è il Torino la giornata dopo lì ci sono tre come valutazione, tre stelline, il Genoa che sta disputando un campionato pessimo con due poi il Napoli ovviamente questa è una sfida difficilissima, 5 stelline, Napoli che però la scorsa stagione venne battuta proprio all'Udinese alla Dacia Arena e in generale è una squadra che con l'Udinese soffre spesso e l'Udinese ha dimostrato con le grandi di poter ottenere dei risultati importanti poi ci sono Cagliari, Bologna, Atalanta che continuano a lottare per l'Europa, Crotone, Samp e Inter insomma il calendario non è assolutamente così difficile, diciamo che le gare più impegnative oramai le ha superate praticamente tutte tranne il Napoli e l'Inter all'ultima giornata però poi anche lì bisognerà valutare come ci arriveranno queste squadre in termini di morale e di capacità di essere ancora competitive alla fine di queste giornate è possibile che magari l'Inter sarà troppo lontano, troppo lontano dalla zona Champions League quindi non scendere al meglio, questa poi è una valutazione chiaramente forse un po' esagerata però è chiaro che bisogna tener conto anche di questo e difatti i tifosi ci credono scalata difficilissima ma non impossibile, possiamo arrivare tra l'ottavo e il dodicesimo posto i tifosi dell'Udinese aspettano altri segnali poi qui Simonetta d'Este come al solito raccoglie un po' i vari stati dei tifosi raccoglie un po' le varie opinioni attraverso i social di quelli che sono i supporter bianconeri si parla anche dei giocatori da lanciare, mi auguro che Janto non lasci mai il campo scrive ad esempio Jessica Dalpin assieme a Depol penso che siano loro i giocatori su cui puntare per costruire il futuro visto che oramai il campionato lo permette utilizzerei questi prossimi impegni per provare anche uno come Evandro mi incuriosisce vedere che cosa è capace di fare in molti ci scrivete su Evandro siete davvero tanto curiosi di vedere come si comporterà il brasiliano in questo finale di stagione del resto uno dei giocatori più nominati da Del Neri ha spesso detto di voler ottenere immediatamente la salvezza per poter lanciare con tranquillità i giovani tra questi rientra anche Evandro si parla anche di Balic vedremo se effettivamente troveranno un po' di spazio nelle prossime gare questi ragazzi i segreti bianconeri a pagina 47 si parla di quello che è stato l'ottimo successo dello schema che ha portato al gol di Jakub Jankto contro il Pescara un gol che ha permesso all'Udinese di chiudere praticamente la pratica perché sul 2-0 la squadra di Zeman si è sciolta non ci ha capito nulla sul gol di Jankto la formazione abruzzese uno schema su punizione ecco come nasce il vero gol di squadra tutto in casa lo prepara tutto in casa l'Udinese lavoro organizzato sul campo dal vice Pino Ferrazzoli dai due collaboratori tecnici Paolo Miano e Gianfranco Cinello a loro poi bisogna aggiungere il prezioso lavoro di Enrico Iodice allenatore che cura l'analisi dei match dei bianconeri insomma un lavoro di squadra che prevede organizzazione e ripetizione quasi maniacale delle situazioni che si vengono a creare in campo l'Udinese ha finora realizzato sei reti sul calcio da fermo che sono assolutamente un bottino da tenere stretto e soprattutto è un taglio netto con il passato visto che negli anni precedenti l'Udinese faceva tantissima fatica a portare a termine questi schemi non riusciva quasi mai a segnare sul calcio da fermo e invece quest'anno sono già sei gol arrivati su questa soluzione in un calcio sempre più tattico scrive il messaggero è fisico l'abilità di una squadra sui calci piazzati è sicuramente un'arma in più avere Gianni Vio nel proprio staff è come avere un attaccante da 20 gol a stagione disse con un eccesso di enfasi Walter Zenga presentando il suo collaboratore che lo ha seguito prima a Bucarest e poi a Catania ci sono stati però degli episodi che hanno fatto scuola ad esempio nel 2008 questo è un episodio che anch'io ricordo con particolare ironia il Catania creava questa doppia barriera e l'attaccante Gianvito Plasmati si calò i pantaloncini un po' per rostruire la visuale del portiere Sereni un po' per distrarlo e Mascara, attaccante del Catania all'epoca fece gol ci sono 4830 modi per battere un calcio piazzato ha detto Vio l'Udinese non ne conosce ovviamente tutti i 4830 però quelli utili per far gol ci sembra averli in bagaglio Carnezis vediamo come sta il portiere greco che ha riportato la lussazione nel quinto dito della mano destra nella gara con il Pescara Cerri invece di calciare il pallone ha praticamente beccato soltanto lui deve essere valutato con precisione l'infortunio al dito mignolo della mano destra oggi attende l'esito delle radiografie per conoscere l'entità di questo infortunio dove il portiere greco è stato costretto alla sostituzione forzata a 11 minuti dalla fine dopo il calcio rifilato da Cerri dicevo prima in questi casi devono passare 48 ore per avere poi un referto strumentale che faccia chiarezza sull'entità di un infortunio che non dovrebbe essere compromettente l'indagine servirà per vedere se ci sono delle micro fratture e in tal caso Carnesis rischia di saltare solo una partita la prossima col Palermo così ha riferito ieri il direttore sportivo Bonato che da ex sportiere ne sa qualcosa di infortuni simili intanto oggi l'Udinese riprende gli allenamenti ci sarà anche Felipe per il quale è previsto un rientro graduale in gruppo dopo l'esito confortante e l'ecografia al polpaccio l'affaticamento che lo ha costretto al forfè di Pescara non ha infatti lasciato conseguenze i tre giorni di riposo sono stati la cura migliore in vista del rientro per il Palermo Felipe che è stato comunque sostituito degnamente da Angela è a modo di recuperare con calma visto la capacità dell'Udinese di avere in rosa diversi giocatori di qualità andiamo a vedere cosa racconta il gazzettino sull'Udinese e poi ovviamente ci spostiamo a parlare anche di altri sport l'Udinese adesso deve confermare la guarigione scrive Guido Gomirato contro il Pescara la squadra bianconera ha proseguito la crescita delle ultime settimane ma ci può fare ancora meglio ecco cosa scrive Guido leggiamo l'incipit del suo articolo i bianconeri hanno sostenuto l'esame Pescara molto preparati superandolo a pieni voti non vincevano in trasferta all'11 dicembre 3-1 a Bergamo ma ora sono chiamati ad affrontare quelli più impegnativi che dovranno dire se il successo all'Adriatico è stato un fuoco di paglia una reale inversione di rotta già abbozzata contro la Juve e la Lazio da cui sono stati battuti solo per un rigore dubbio l'impressione che il momento critico rappresentato da 5 sconfitte in 7 incontri nei primi due mesi del 2017 sia oramai superato che si inizia a rivedere l'Udinese degli ultimi due mesi del 2016 concreta, spigliata, bella anche a vedersi organizzata e spietata per cui è legittimo ipotizzare un finale di campionato in crescendo tale da porre basi solide in vista della prossima stagione questa è effettivamente la sensazione generale la sensazione generale è che l'Udinese sia tornata dopo un periodo di riposo abbastanza prolungato è un'Udinese che sta puntando su tanti giovani non ci sarà purtroppo più Secofofana però c'è Yankto ci sono tanti ragazzi che sembrano essere in grado di poter dire la propria nel corso di questa stagione diciamo appunto di Yankto con Pozzo che resiste al Sirene la Repubblica Ceca giocherà il 26 marzo a Serravalle nella Repubblica di San Marino gara valevole per il gruppo C delle qualificazioni al Mondiale 2018 che si disputerà in Russia prima di addentrarci però nell'articolo dedicato a Yankto andiamo a vedere com'è la situazione del traffico ci colleghiamo con Sandro Favoto alla centrale operativa comunale buongiorno buongiorno a voi allora segnaliamo che in città al momento il traffico risulta regolare non ci viene segnalato nulla di anomalo segnaliamo la prosecuzione dei lavori di asfaltatura del primo tratto di via Tricesimo dal lato di Piazzale Chiavris con chiusura parziale della careggiata traffico quindi deviato possibili rallentamenti e disagi per gli utenti in transito perfetto grazie mille allora Sandro Favoto devo dire che me ne sono accorto venendo qui in studio a saperlo prima signor Favoto ma va bene così grazie mille per la sua precisione e la sua puntualità torniamo torniamo a concentrarci sulla sulla rassegna sportiva parliamo di Jacopo Bianco che sta ottenendo davvero sempre più consensi nel corso nel corso di questo di questo campionato giocherà con la Repubblica Ceca è la sua prima gara con la Nazionale A dopo aver fatto sfracelli nella Nazionale Under 21 chiaramente c'entra poco con le categorie giovanili oramai Ancto che sembra pronto per palcoscenici importanti dicevamo giocherà contro il San Marino classica partita Materasso per Iancto è l'occasione però giusta per farsi notare una volta di più dopo Udinese-Palermo ci sarà il rompete le righe i convocati dalle rispettive nazionali partiranno per dieci giorni di gare la prima volta potrebbe esserci anche il centrocampista ceco pilastro dell'Under 21 che si giocherà gli europei di categoria giugno in Polonia ma con il sogno di esordire nella nazionale allenata da Karel Jarolim Iancto oggi è la star della stampa ceca sfogliando le pagine dei giornali pragesi per accorgersi che lui il personaggio del giorno è il nuovo asso del calcio cieco titola ad esempio Eros Pravi in nazionale subito scrive invece Blesk è bello vedere tutti questi attestati di stima nei confronti di un ragazzo che davvero ha lottato tanto per emergere e adesso sembra aver trovato finalmente la dimensione che merita noi siamo pronti per andare adesso da Davide Zanirato siamo quasi pronti per andare da Davide Zanirato che da Tolmezzo ci racconta un po' quello che sta succedendo c'è una situazione non so quanto tesa ce lo facciamo raccontare proprio da Davide perché c'è un popolo in protesta buongiorno Davide raccontaci come è allora la situazione a Tolmezzo buongiorno Fernando buongiorno Friuli sì siamo qui davanti alla palestra di roccia lungo la strada che da Tolmezzo dalla frazione di Betania porta quella di Il Legio perché qui nel conoide di deiezione del monte Amariana il monte più rappresentativo della città tra poco alle nove inizieranno i primi brillamenti di ordigni residuati bellici da parte dei guastatori dell'esercito è stata scelta questa zona perché qui proprio c'è un poligono militare ma la discesa in piazza dell'agente di Tolmezzo con a capo il sindaco Francesco Brollo e tanti amministratori tantissimi cittadini già giunti qui servirà per denunciare la contrarietà sì al brillamento delle bombe ma anche alla presenza delle servitù militari in Carnia nonostante l'addio degli alpini avvenuto lo scorso anno dall'ultima di fatto caserma presente sul territorio ovvero la cantore di Tolmezzo quindi tanti argomenti quest'oggi l'afflusso della gente è già molto pressante stanno arrivando un po' da tutta la città e non solo abbiamo visto tantissimi amministratori naturalmente nei prossimi collegamenti andremo a sentire dal vivo le voci di questa protesta a te Fernando perfetto grazie mille David poi nella successiva parte buongiorno Friuli analizzeremo nel dettaglio quello che è l'argomento che ha appena annunciato il nostro Davide Zanirato da Tolmezzo diciamo di Janto che potrebbe essere la prossima plus valenza dell'udinese ne parla così ne parla così il gazzettino ne parla così Marco Agrusti al momento i siti specializzati danno di Janto una valutazione di 4 milioni di euro che onestamente sembra però lontana al suo valore reale sembra come dire rispecchiare assolutamente in maniera non veritiera quello che in realtà ha la qualità di Jaco Bianco molto più forte di questi 4 milioni che gli vengono assegnati da Transfer Market diciamo appunto il sito di riferimento secondo il gazzettino vale oramai già 10 milioni di euro la Juventus sembrerebbe pronta a spenderli per lui ma l'intenzione ludinese è quella di trattenerlo sempre secondo il gazzettino almeno per un'altra stagione sperando che Janto trascini la squadra verso un campionato di alta classifica Janto è un tesoro potenzialmente anche da 20 milioni scrive Marco Agrusti un altro ragazzo che insomma sembra destinato ad una grande carriera è Simone Scuffet che dovrebbe giocare con il Palermo ma occhio perché come diciamo prima oggi è la giornata decisiva per valutare le condizioni di Carnesis chiaro che Scuffet troverà spazio qui al termine del campionato c'è però la volontà da parte di Gigi Del Neri secondo il gazzettino di chiudere questo ciclo di partite con i titolarissimi e poi lasciare spazio ai giovani ciclo di partite che si chiude appunto che si chiuderà con il Palermo ma bisognerà valutare le condizioni di Orestis Scuffet intanto però sommessamente spera di poter essere lui il titolare l'ambiente lo protegge senza esporlo a quell'impatto mediatico che si scatenò invece dopo il suo esordio a Bologna tre anni fa il Cassio 96 lavora sodo per giocare almeno le ultime nove di campionato da titolare Scuffet non giocava in Serie A dal 31 maggio 2015 quando in panchina c'era Andrea Stramaccioni Scuffet su Instagram ha scritto anche un post 650 giorni dopo per insomma far capire la la sua la sua pazienza ha aspettato così tanto prima di tornare a giocare in Serie A si è un po' vista effettivamente la ruggine nel gol subito da Sulei Montari ma in generale comunque un ragazzo che ha tante qualità e siamo sicuri riuscirà a dimostrarle nel corso del prossimo periodo il Pordenone che ha battuto il Suttirollo 1-0 Pordenone che si rilancia in chiave playoff ha guantato il quarto posto raggiungendo la reggiana omaggio del Bottecchia a Veleno Cattaneo l'ovazione del pubblico ha imparato a difendere quando fu preferito a Messi c'è un articolo molto bello dedicato proprio a Cattaneo Luca Cattaneo che nel Pordenone non gioca sempre titolare ma quando lo fa riesce sempre a lasciare il segno ad esempio contro il Bassano Virtus ha realizzato una doppietta entrando alla panchina contro il Suttirollo ha fatto l'assist per Padovan per la rete che ha deciso poi la gara ho imparato a fare anche il difensore vero Luca Cattaneo domenica pomeriggio ha deliziato il popolo nero verde in una giornata in cui pur tornando a vincere il Pordenone non ha disputato una grandissima partita è però un ragazzo che viene giudicato veleno per le sue serpentine velenose appunto perché è capace di incunearsi ovunque e di far male alle difese avversarie ha ricevuto la standing ovation dal Bottecchia quando il convertito Tedino l'ha richiamato in panca a 5 dal termine per concedergli la giusta passerella tutto il Bottecchia si è alzato in piedi ad applaudirlo gente fantastica che mi vuole bene non soltanto la domenica ma anche quando mi incontra per strada queste le parole di Luca Cattaneo favorito dall'aneddoto che vuole un Luca Cattaneo preferito a Lionel Messi quando i due sostenerono sostendere un provino alle giovanini del Como lui aveva 10 anni l'argentino 12 tutto vero racconta sorridendo il fantasista un anno fa eravamo in 300 Messi non venne scelto e fu la sua fortuna adesso ammetteva sarei felice anche solo di fare un selfie con lui pensate un po' le slide indoors e la vita se il Como avesse preso Leo Messi quello che forse è il giocatore più forte della storia del calcio o quantomeno tra i primi tre per quello che sta dimostrando in questo momento se fosse andato al Como con le dovute proporzioni siamo più o meno bassi uguali brevilini rapidi con i piedi buoni lui è il mio idolo il migliore in assoluto insomma essere preferito ammessi è secondo me comunque qualcosa da mettere nel curriculum perché non capita non capita tutti i giorni adesso non capiterebbe mai però da giovani Cattaneo aveva qualcosina in più qualcosa che invece sembra aver smarrito la GSA qualcosa in più rispetto agli avversari al momento non ce l'ha la formazione di coach cittadino che viene da quattro sconfitte consecutive come ripartire si chiede il messaggero siamo tornati sul messaggero da Ray al derby ecco i nodi in casa GSA li analizza così il messaggero c'è un appagamento c'è stato un appagamento dopo le vittorie con Recanati Forlì e Roseto c'è poi questo approccio molla le partite in trasferta con la GSA che fa sempre fatica di imporsi lontano da Cividale poi c'è ovviamente anche la maledizione infortuni una su tutti all'unray che sarà fuori per i prossimi 15 giorni è arrivato Ryan Weidemann che ha avuto subito un impatto forte 24 punti nella prima gara con Imola però chiaramente Anarrei è un giocatore fuori categoria e la sua assenza si fa sentire così come anche l'assenza di un playmaker di categoria secondo il messaggero c'è poi anche la mancanza di peso sotto canestro la squadra indebolita dal rimpasto del mercato nottavia Cuccarolo sono arrivati a Caffal è arrivato poi appunto anche Ryan Weidemann al momento però devono chiaramente integrarsi questi ragazzi la vecchia guardia in calo Zacchetti poi Truccolo che manca in difesa il ragazzo che chiaramente dava sempre quel qualcosina in più manca e si sente poi c'è anche la discontinuità di Stanno Coglie il secondo americano insieme all'Array che non ha un fantastico rapporto con coach Alino Lardo e questa cosa purtroppo si è fatta sentire nel corso della stagione i tifosi aggrappati allo Yes We Can il celebre motto di Obama regala ottimismo per Trieste perché domenica c'è il derby d'ora in poi però vogliamo in campo cinque guerrieri Trieste che si sta giocando l'accesso in A1 ha tutt'altra ambizione rispetto alla GSA al momento però è chiaro che bisogna bisogna poi affrontare il derby che è sempre una gara a sé e storicamente i favoriti poi fanno fatica vediamo poi anche ora quello che raccontano i quotidiani nazionali si parla di Inter supermercato Inter i colpi nel carrello di Pioli Bernardeschi Schick Berardi Strotman poi c'è spazio a Rudiger Di Maria De Vrij Mertens insomma tanti giocatori in grado di poter fare il salto di qualità alla formazione nerazzurra c'è anche Krikoviak del PSG che non ha mai trovato fortuna dopo essere arrivato dal Sivilla insomma Suning lavora per il prossimo Scudetto secondo la Gazzetta dello Sport Scudetto che al momento sembra indirizzato alla Juventus la coppia dei campioni Iguaine di Bala avanti Allegri invece parla di Milan Follia parla così in questi termini la sua ex squadra alle 20.45 questa sera c'è la gara tra Juventus e Porto già battuto all'andata per 2-0 poi si parla con Max Allegri e i veleni con i rossoneri si sono visti i 20 punti in più Juventus che però ha vinto soltanto con un rigore realizzato al 97esimo e concesso al 94esimo Milan che si è difeso si è aggrappato ai miracoli di Donnarumma però in generale l'aveva quasi portata a casa la Lazio non è solo immobile Keita entra infilza il toro il bomber bianco celeste 17esimo gol segna Maxi Lopez replica poi il senegalese Anderson siglano il 3-1 Belotti si batte ma non basta Conte stende Mourinho e l'FA Cup e poi niente saluti il Chelsea elimina lo United in 10 per un'ora gol di Ngolo Cantè ancora tensione tra i due tecnici eccola qui una foto direi abbastanza esplicativa di quella che è stata la tensione tra Mourinho e Conte nella gara di ieri con il quarto uomo che ha avuto il difficile compito di dividerli ancora poi le storie di G più la grinta di Mondonico ho tolto il tumore ora sto bene e non mi arrendo noi ovviamente gridiamo forza Mondonico perché l'allenatore ha già lottato contro questo male che purtroppo fa molte vittime ha già vinto una volta può farcela anche adesso in Serie B Romulo si fa parare un rigore il Verona fa 0-0 con Lascoli e la vetta sfuma Verona che non è ancora uscito dal momento difficile poi il ciclismo il Tirreno Adriatico l'antipasto e Sanremo c'è anche questo missile che si chiama Gaveria che fulmina Sagani insomma siamo entrati nel vivo di una delle gare più belle della storia del ciclismo italiano il rompipallone di Giorgio Gnocchi anche Borriello non ha digerito la sconfitta all'ultimo minuto domenica notte ha sfasciato il prime dell'Hollywood parliamo di Fiorentina Cagliari altre ambizioni e insomma anche altre altri luoghi da sfasciare se i giocatori del Milan hanno devastato lo spogliatore della Juventus per Borriello secondo Giorgio Gnocchi ci si è rivolti ad altro Ronaldo e Messi vi sfido chi lo dice Paolo Di Bala Juve contro il Porto Di Bala contro tutti il fuoriclasse argentino lancia la carica all'Europa siamo all'altezza di Real Barca e Bayern i quarti e poi vogliamo la finale stasera prenota un gol è chiaro che la Juventus ha l'obiettivo anche di vincere la Champions League non è facile ma ha una rosa tale da poterci riuscire Pioli da Scudetto ha stregato i tifosi e l'Inter sta convincendo i cinesi con lui in panchina media di 2,31 punti a partita se fosse arrivato subito la squadra sarebbe seconda poi ovviamente questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano perché non è assolutamente detto che Pioli dalla prima giornata avrebbe potuto ottenere lo stesso che è riuscito poi a costruire a campionato in corso però insomma è chiaro che poi queste classifiche fanno gola ai tifosi come la Lazio che fa gola ai suoi tifosi avendo battuto ieri il Torino Tris con Keita e Felipe si vola alto Lazio che continua a ottenere davvero grandissimi risultati poi in basso Conte elimina Mourinho il Chelsea un rullo un gol di Kanté e vola in semi finale noi siamo anche in attesa di collegarci con l'Osmer Arpa per il meteo per darvi come al solito tutte le nostre notizie sulle previsioni della giornata di oggi attendo chiaramente ovviamente un cenno dalla regia per dare la linea ai colleghi dell'Osmer e fare il punto della situazione nel frattempo ci concentriamo sulla prima pagina di Tutto Sport mi fanno ridere queste le parole usate da Max Allegri per parlare del Milan si sono visti i 20 punti di differenza nella gara dello Juventus Stadium siamo pronti pronti con il meteo pronti con Sergio Nordio allora buongiorno buongiorno Sergio che tempo farà oggi? Buona giornata ben ritrovati direi condizioni ancora abbastanza tranquille sulla nostra regione c'è un po' più di nuvolosità stamattina in alcuni in alcuni posti in alcune località ad esempio sulle zone orientali della costa a Trieste e verso la Slovenia c'era un po' più di nuvole stamattina ma anche in montagna in alcune fasce delle prealte per quanto riguarda la pianura invece in ceno in prevalenza sereno poco nuvoloso in quota sta passando un debolissimo fronte quindi niente di preoccupante e già nelle prossime ore prevarà il sole su gran parte del territorio regionale temperature massime oggi forse un po' più alte rispetto a ieri di 1 o 2 gradi intorno ai 18 previste le massime in pianura siamo un po' più bassi sulla costa il mare è ancora freddo a 9 gradi quindi l'aria che ci sta sopra è più fresca e quindi è vicino appunto alla costa le temperature massime rimangono un po' più basse per quanto riguarda la montagna lo zero termico è in salita intorno ai 2.000 2.200 metri di quota tempo stabile anche nei prossimi giorni sempre c'è in prevalenza poco nuvoloso più umido verso la fine della settimana probabilmente avremo delle poschie e un aumento della nuvolosità fra venerdì e sabato ma ovviamente aggiorneremo queste previsioni perfetto grazie mille grazie mille a Sergio Nordio di Osmer Arpa buona giornata anche a te buona giornata anche a voi ciao perfetto ora noi siamo in chiusura per quanto riguarda la segna stampa sportiva ma non andate via restate con noi perché avremo ancora tanti aggiornamenti buongiorno Friuli vi farà compagnia ancora per un po' ci collegheremo da Tolmezzo con David Zanirato e poi analizzeremo anche qui gli ultimi fatti di Cronaca restate con noi non andate via grazie mille